Eccoci qui in compagnia di Paolo Penazzi, Paolo siamo nel tuo regno, ce l'abbiamo fatta entrare, ci hai messo un po', c'è stata una lotta, qui non può entrare chiunque, quindi ci vuole il pedigree, mi sembra di averlo capito, c'è, mi hai fatto prima i raggi X, avevi paura, siamo in una farmacia del coronavirus, non lo so, sono entrato là davanti, ho suonato, ho telefonato, riattacchi, poi non dico cos'hai detto, alla fine hai dovuto fare bene, ma chi è che ha rompito le scatole, è arrivato il frattempo di dollari, è top, beccati questo, beccati questo, però alla fine mi hai aperto, visto siamo qua, adesso se l'abbiamo fatto, io nel dubbio, visto che avrei studiato economia e commercio, mi piace contare i soldi, ho detto appartiene dalla farmacia che non sbagliavo mai, in questo periodo ho maggior ragione, perché tu non usi quei vecchi sistemi di bussaga le porte, non bussa più nessuno, ti mandano lo smartphone, il campanello staccato, telefono non apri quando dovevo arrivare in orario, sono arrivato, suonavo il campanello e dici che non è attaccato, mi hai fatto intuire, ascolta Paolo, parliamo di pallavolo, Zinella, vedo nella maglia, rimaniamo presidente dei presidenti, la Zinella di Bologna ha vinto lo scudetto nel 85, nel 85, viva dal 72, quindi andiamo per 50 anni effettivamente, quindi abbiamo passato di tutti i colori, qua c'è tutta la storia, tu sei la storia, ma io più o meno sì, perché io ne ho fatti i 55 di anni, ma prima della Zinella solo giocavo nella Virtus, che ha vinto lo scudetto nel 64, nel 65, nel 66, con Fangareggi, Bernardi, Barbieri, Mescoli, Zuppironi, la squadra della Madonna, e poi dopo con la Virtus di Zanetti, che ci ha preso un gruppo di ragazzini giovani, siamo finiti nel Cus Bologna, dal Cus Bologna siamo ritragati alla Zinella, dalla Zinella allo scudetto, poi saltata per aria, sono arrivato io che l'ho salvata per 30 anni, poi adesso ciò, sono un po' stanchino, come diceva anche Tom Hanks nel film, quindi faccio il Presidente Merito, quello è merito Presidente! Quello lontano, 85 lo scudetto della Mater, in quel di Reggio Emilia in campo neutro, Sì, ma noi siamo stati la salvestra della pallavola italiana, perché se avesse vinto Modena, allenata da Nanini, non succedeva niente, invece cosa è successo? Che un gruppo di sei disgraziati, tutti rimediati, Carretti, Babbini, Squeo che faceva la parchina a Reggio Emilia, Zanetti, Scarioli che non doveva giocare perché si era fatto male, il Babbo, il grande Romagnolo, il grande Babbo, una squadra, Venturi, il pareggiatore Romagnolo, Pasto, questi sei disgraziati batterono, si dice batterono, la grande Panini con Bertoli, Lucchetta, tutta la compagnia bella, Chiroga e l'allenatore, il buon Nanini, gli diedero giustamente dell'aria perché non puoi perdere la Zinella a Bologna che tutt'ora gli rimane un po' addosso a Cantagallo e compagnia, e chi presero al posto di Nanini? Velasco. Grande, e Velasco cosa ha fatto? Non sembra abbastuto, ma quindi la Zinella vincendo con lo scudetto 85 causò l'insinuramento di Nanini, l'arrivo di Velasco da Iesi a Modena e poi dopo il nazionale e poi gli anni del boom, quindi la Zinella è fonte del boom della Palavola Italiana, in sintesi. In sintesi, lei dottor Penazzi è stato sintetico, ma dopo arriva Penazzi qualche anno dopo, cinque anni dopo, possiamo dire? Sì, perché la Zinella poi è saltata per aria perché ci fu, trovarono degli altri sponsor, Tartarini eccetera, ma poi Buffetti che tirano un bidone tremendo, il Novanti era chiuso e trovarono il Merlo, che mi chiamò Bianchi, il direttore sportivo, dice, ci vuole un aiuto, e io che avevo creato un A2 che si chiamava Pencus, avevo fatto la stessa strada di Zanetti, l'ho chiamata Pencus Penazzi più Cusse, tutti dicevano, ma quella era una supposta, Pencus, no, era il nome, avevo fatto una crasi, è arrivato bello questa crasi, potrei interrogarti anche su cos'è una pocope, attenzione, ti trovo un po' in preparato, vedi che anche ti posso... Ma hai boccheggiato, ma hai boccheggiato, e quindi cosa ho fatto? Io ho arrivato lì con la mia A2, salvai la Palavola 1 della Zinella, retrocedemmo quell'anno lì, però trovavamo la Fochi, che è stato uno sponsor fantastico, per tre anni fantastico, giocavamo con l'aereo presidenziale del dottor Fochi, era la più grossa industria italiana, 16 mila dipendenti, tornammo in A1, ci salvammo alla grande, sembrava un gran futuro, poi è saltata per aria, una sfiga della Madonna, è la più grossa saltata per aria per colpa dei posti petroliferi dell'Iran, eccetera. Io trovai i preservativi, Gin Satu ci chiamammo, ci salvammo anche con la squadra dei preservativi, passammo alla storia, e poi dopo Bologna, una città infima per fare Palavolo, perché amano tutti quella cosa lì che si tira nel cesto, e quindi quando fanno una schiacciata, quindi del basket sembra che abbiamo fatto chissà cosa, noi viviamo di schiacciate, allora qual è il problema? Stacca, Palavolo a Bologna non funziona, io dovrei andare a fare la 1 a Ferrara, addirittura, diventammo IAU, facciamo anche una semifinale scudetto, però a Bologna continuava a trarre una B1, arriviamo fino alla 2 nuovamente, poi arrivarono gli argentini, poi arrivò il 2010, soccammo del tutto, ripartì dal settore giovanile, dove tuttora sono, risultato sintetico anche adesso. Tanto bravo, devo dire la verità, però settore giovanile, diciamo che questo pallavolo ti è rimasto dentro, cioè non molli, cioè settore giovanile, la prima squadra cosa fa? Serie B, perciò comunque focalizzato tutto sui giovani. No, sì, adesso si è chiamata Zinnella Junior, per non confonderela con la Zinnella storica, di cui non so, riesci a girare per far vedere tutte quelle coppe contro coppe che ci sono là dopo, dopo le facciamo vedere successivamente, perché effettivamente vale assolutamente la pena. Non vuole far vedere dei soldi qua? Non ho soldi, ma sono 20 euro, poco roba. Per un farmacista, però non mi sono già mezzo rovinato per la pallavolo per fare quei 50 anni che dicevo prima, effettivamente, e quindi insomma è stata un po' di difficoltà, però adesso vediamo questo settore giovanile che vince sempre, aspetta che ti tiro su anche Ugo. Ugo, grande Ugo. Ugo è la mascotta, effettivamente. Ugo saluta. Ciao Ugo. Dai un bacino qua. Ugo mi dà una leccata, qua sente l'odore del mio, siamo secchi. E quindi abbiamo questa Zinnella che fa una serie C di livello, devo dire, ed è insieme con altre sette società e fanno la pallavolo Bologna che fa una serie B, è un progetto che vediamo, non so se maturerà, però non è proprio quella Zinnella doc che vorrei io, ma d'altra parte qua appena si è un po' spremuto ultimamente. Ma ce n'è ancora a spremare qua. E allora la passione c'è tutta quanta e vediamo di tenere botta. Poi quando vedi gli spettacoli, come la Coppa Italia che ha fatto oggi all'Unipol Arena, vedi che ci sono 8.000 spettatori di cui almeno 5.000 bolognesi, vuol dire che c'è il DNA, il fuoco che va sotto l'accendere insomma. Ascolta Pablo, farmazia, cioè tu sei un mix di tutto, farmazia ma fumetto, parliamo di fumetti. Sì, ma il mio vero hobby non è la pallavolo, non è l'amore per i cani, la farmacia, i fumetti, tu devi sapere che io ho una tavernetta che è grande, non poco devo dire, con la bellezza di 20.000 fumetti dal 1960 in avanti e le otto di quante, una colazione strepitosa, vado a tutte le mostre, chiaramente, Lucca e compagnia bella e quindi ovviamente tutti i text, tutti i Dylan Dog, Giulia, Albi d'Oro, Albi dell'Intrepido, Monello, Hachim, eccetera, è una collezione strepitosa di fumetti e quindi il vero hobby, però l'amore rimane sempre questo qua, il puffo della pallavolo, questo ce l'hanno in pochi, perché io essendo un collezionista effettivamente, il puffo della pallavolo è una rarità, c'è anche la puffetta, il puffo come ho detto già altre volte ha trovato da fare bene, quindi ha trovato la puffetta che gioca a bici ovviamente, in costume un po' ad Amitico di Scinto, ma insomma lasciamo perdere. Grande. Maolino, grazie. No, fa vedere le coppe. Adesso faccio un giro. Devi far vedere, perché in questo ufficio ci sono, quello che vedi l'altra carta, sono la Coppa delle Coppe, quella che abbiamo vinto a Basilea con Nega Zanetti, e la Coppa Italia, che l'ha vinta da poco tempo fa, lo Scudetto del Beach Volley del 94, che è quella lì che ho vinto io, e poi ce ne sono di tutti i generi, veramente. Infatti molta gente si ferma qua, essendo la farmacia vicina a stessi ore. Se tu aprissi mi fermerei più spesso anch'io. Ogni zona ha un senso. Mi fermerei più spesso anch'io se riuscissi a entrare però, ho paura che intervenissero le guardie dopo. dopo mezz'ora che tiravamo dei pugni. L'abbiamo fatta comunque. Ma avete visto dove va di bello? Nel tuo sito? Su dallarivolley. Su dallarivolley. Su dallarivolley. E su penazzivisinella.com Magnifico. Grande, grazie mille. Grazie a voi tutti quanti. Ciao, forza pallavolo a Bologna e forza i dallari. Grazie a tutti.